Raddoppiare le corsie della regionale 308 e collegarla alla superstrada pedemontana Veneta, modificare in accordo con i comuni attraversati il tracciato della SP 47 Val Sugana, collegare questa arteria anche alle SR 308 e 307. Progetto e realizzazione dei lavori affidati a un commissario, il presidente della regione Veneto. I dieci sindaci della federazione comuni del Campo San Pierese hanno scritto anche questo in una lettera alla regione perché chiede al governo di inserire nei fondi del piano italiano di ripresa e resilienza il finanziamento del collegamento diretto tra Padova e la superstrada pedemontana tramite la SR 308 del Santo e la SP 47 Val Sugana. Individuare le risorse per realizzare il raddoppio di questa strada è sempre più fondamentale perché su questa strada passano appunto tutte le merci che ogni giorno riforniscono le grandi aziende e le piccole realtà che rendono ricco il nostro territorio ma un domani serviranno a collegare il polo ospedaliero che sorgerà a Padova Est con quella che sta per essere inaugurata ovvero la strada pedemontana che appunto solcherà il Trevigiano a nord dei nostri territori. Un intervento fondamentale hanno detto i sindaci del Campo San Pierese che si appellano alla regione perché ottenga finanziamenti governativi anche dal tanto decantato Recovery Fund, opere che solleverebbero i territori dell'alta dall'assalto del traffico pesante. Pensiamo solo all'inquinamento delle code, dei rallentamenti e quindi non solo una risposta infrastrutturale, non solo una risposta alle categorie produttive ma anche una risposta ambientale, un traffico fluido, un traffico scorrevole vuol dire meno inquinamento oltre che a meno attese.